2.200 tonnellate di sostanze pericolose sono assolutamente incompatibili con la sicurezza e la protezione in un acquifero così importante. Entro fine 2020 le sostanze pericolose contenute all'interno dei laboratori di fisica nucleare del Gran Sasso in relazione agli esperimenti LVD e Borexino potrebbero essere rimosse smantellando così due progetti. I laboratori nazionali di fisica nucleare ieri hanno depositato presso la regione Abruzzo i documenti per chiedere la valutazione di incidenza ambientale per l'allontanamento delle 2.300 tonnellate stoccate nella pancia della montagna, 1.040 tonnellate di acquaragia e 1.250 tonnellate di trimetilbenzene. La mobilitazione dell'acqua del Gran Sasso con Augusto De Santis rivendica gli anni di lotte e denunce per cercare di dimostrare l'irregolarità del deposito di quelle sostanze all'interno della montagna. Il deposito di queste sostanze è avvenuto in maniera irregolare secondo le leggi e anche il buon senso perché la legge prevede che ci sia un divieto di stoccaggio di materiale pericoloso vicino ai punti di approvvigionamento di acqua potabile. L'acquifero del Gran Sasso disseta 700.000 persone in provincia di L'Aquila, Teramo e parte del Pescarese. In caso di incidente avverrebbe un evento catastrofico per l'approvvigionamento idrico e ovviamente anche per l'ambiente di un parco nazionale. Gli ambientalisti della mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso annunciano che esamineranno con estrema attenzione i documenti vista la delicatezza delle operazioni di trasferimento del materiale che devono svolgersi dicono in assoluta sicurezza e sono pronti a presentare eventualmente delle osservazioni entro i 30 giorni concessi dalla regione. De Santis chiede al comitato via della regione Abruzzo di completare l'iter burocratico nel più breve tempo possibile così da far partire i lavori effettivamente entro settembre di quest'anno.